Mi spara, mi spara, mi spara, ci fianco, flancano lì, come cazzo si dice, qui, qualche schifo, palanque è morto, palanque devi questo pescino sparare, abilini, ce ne avevo 5, abilini, avevi 5 abilini, 1, 2, 3, me li sono beccati, allora ce ne è qui, palanque però non puoi stare in campo aperto, devi farti i muri, oh, capi, ancora 2 si 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 siiii ha finito tutto il tuo ha finito tutto tutta colpa di chi ha avuto l'idea di andare contro l'elicottero no o anche i norisi cano rosi quanti montagli avevi in campo aperto? non tanti posso confermare peccato che vava tipo 100 di tutto quindi poteva benissimo sopravvivere attenzione abbiamo un specchio ragazzi io vi aspetto vi aspetto ancora una partita si esco così mi fa partire giusti poi mi metto a vedere non mi fa uscire dal gruppo no ma david alla lobby no mi ha fatto uscire ok raga ho lasciato il gruppo così almeno poi la live si vede qualcosa su gruppo di live scrivono solo noi gli altri vo mandi auguri poi si mandano a fanq si mandano a fanq si mandano gli auguri ma poi si mandano sempre a fanq io non li faccio a palante neanch'io io gli ero fatti mai tanti di quelle volte sul gruppo di Pasquetta? raga ma Pasquetta cosa facciamo? maaa aspetta quando è? per l'anno prossimo già se ci saranno anno prossimo già abbiamo organizzato il carnevale quindi ma vabbè organizzato ah ma no quello da buona sua eh si eh si si scusate brava brava ok ragazzi io ve lo dico stasera e c'è una novità perchè è da un po' di tempo che non mettiamo una foto nuova durante la diretta quindi a grandissima sorpresa comparirà mini Loris seee lo sapevo mini Loris mi piace a Loris te lo dico stasera sarei un soggetto della live attenzione ci sarà mini palanche così come ci sarà anche mini Loris mini Loris no sei sotto 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 perchè sei ritagliato di merda quindi ti devi adattare ragazzi comunque ho messo il link della live sul gruppo quindi se volete spammarlo quando vanno alla scogliere o pantano o scogliere no cazzo sono dall'altra parte del mondo uno dall'altro scogliere dobbiamo la colpa un po' a carlo stasera ma anche ti ricordo che ieri il scogliere avevo vinto non pulire la plai che è piena di polvere nelle fessure lascio a perdere che la mia c'è una ragotto dita che c'ha pure i filtri eh io ho visto delle player americani che gli avevano fatto un nido i calabroni dentro ma che cazzo c'è gente ma io ho provato a pulire o no? è un casino hai Loris io ero qui andiamo sul tetto principale no io no il mio è il tetto principale va bene facci facci con i due nemici l'ombrello mi sa che non sono solo te l'abbiamo detto ciao pan ciao io con un ombrello non neanche posso fare tanto c'è un pazzo di merda c'è un pazzo di merda si dov'è? alla me fa pompa cacca rotto vaffanculo cazzo di merda raga avete armi deve esserci qualcuno qua sosto oh 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 tiro ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto ci sono caduto addosso e che vuole anche muore provabile ci avete un'arma che spari chi andiamo qua su lo so prendo una mitraglietta e' un medici ah no un medici ci serve david tieni david attenzione ho anche sto tentando eh aspetti che appena entro dove c'è stato si sta preparando palanche si sta preparando palanche che ragazzi da live funziona supporto palanche quindi palanche e' il momento e' il grande momento ciao spettatori perfetto cazzo a tutto sto casino vado entro qua non culo io non culo io dietro ma cosa sono ma ma l'abbiamo culato no l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso no ma non era l'ultimo anche qua è già lottato con un pezzo di merda sopra si bene nel piano mezzo no tanto sono io no no venendo la partita di loris attenzione no arriva un elicottero no spostiamoci su palanche che è molto più intrigante si è perchè non sa mai cosa cosa si arriva un elicottero eh allo palanche gli eroti barili ho trovato scudini dove sono atterrati palanche scusa al minimo spiattolo eccolo palanche scusa eccolo palanche scusa eccolo io però richiamerei un attimo saluto ciao spettatori perfetto ho detto ora poi quando ne avrò ma voglia magari domani mi c Sleeping prendo un pezzo del tuo audio ma lo metto su un tasto il percorso doverli ai 500 ucchi cccc cccs ciao spettatori ma e poi vabbè quando si fa�� fox non si pose ora che faccola ok il grande spi c222 colui che costruisce come una persona anzi no si guarda me aspettami un attimo carlos sono su capra 76 che si sta curando andiamo su loris che non si vede carlo che cazzo fa carlo cosa cosa sta facendo ha fatto una tomba loris ah vabbè dai abbiamo poi tutti attenzione carlo apre non trova un cazzo assuma certamente poi c'è palanche che più o meno ha dato 3 settimane che fa riverbero e non vuole risolvere questo problema non so io si palanche ok è colpa di Sam poi loris ha risolto il suo problema che la prima sera sparava cazzate ringraziamo la line no 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 nike e adidas ma perchè nike ora ti muto no 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 e adidas già che puoi far partire le storie di instagram che ci danno il copyright la prima sera ci è andato il copyright ci rendiamo conto ci è andato il copyright su muhamed swag i miei bicicletti va più di lamborghini mi sa che non sa chi è muhamed swag no molly fa capire chi è muhamed e non so come potrei fare potrei mettere una canzone di muhamed eh si per farti dare il copyright vuoi dirlo forte Samir furcatroia ma te fai perché nella playlist di molly secondo me c'era anche qualcos'altro no era una playlist di canzoni di muhamed quindi poi magari dopo partito tipo gabriponte eh infatti che forse è quello effettivamente il copyright il saluto alle ginarchia raga andiamo al concerto di gabriponte e poi manitasca 50 mila iscritti puoi abbonarti a muhamed swag si vabbè io lo farei un euro anche con credito eh poi non hai soldi per il post ragazzi allora allora ci sono diversi tipi di abbonamento per muhamed swag abbiamo tre livelli di abbonamento tre livelli di abbonamento il primo è diretta su instagram sono tre euro al mese casini con muhamed sono cinque euro al mese e caffè da fang sono ben dieci euro al mese io farei caffè da fang falla anche tu quale abbonamento di muhamed swag acquisteresti caffè da fang caffè da fang attenzione bene lo compro molly poi ti dai soldi no sono colpo fiori di loris a a non c'ho soldi allora ragazzi tu te l'econocchi tutte qual'è quella che dici tu sei fenghio somu a mezzuag oh my god non c'è il suo come si chiama non si chiama non si chiama più berlio eh ok ma mezzaghe più berlio tu sei fenghio somu a mezzuag attenzione parte insomma e lo faremo sentire anche nella live no raga per pacifico no non si sente un cazzo ora si come si chiama più ma voi oh 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 No, la faccio tutta dietro ragazzi Ragazzi, tu ci vieni, tu ci posto? Chi l'ho staccato, sono le migliori Lui e se, sono Mohammed Zwei Non direi che cosa è nazionale La grandissima ittestiva di Mohammed Zwei No, la metti è voluta Bravo Ma non sei capace Ma non sei capace La palanca è a memoria Appettiva e dentro La palanca è non cantata che se no sei in ritardo La stua come ci rimarda ragazzi anch'io e poi direi di mettere la prima è il momento di mettere il grandissimo miglior singolo è stato in due diciannove è stato in due diciannove vabbè c'è gente c'è gente mollita la musica abbassano abbassano fumo fumo però ristorna arriva cazzo lo c'è dietro c'è dietro scusa merda come ho fatto c'è un bambino è atterrato 1 nooo guarda che è sulla casa qua 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 david c'è dietro il suo friend sta andando è morto è morto oh vabbè senza le munizioni sto pezzo di merda di fucile dai che cazzo è dietro raga non c'è più cazzo ci sono infilato dentro cazzo è comparso minchio che figlio di troio cazzo di merda ma i palanki carlo palanki ma devi uscire già mirando ma ero con pompa mi dite di non mirare con pompa non puoi correre lì in faccia minchia palanki è forte su koknau ragazzi c'è un tizio era un pollo c'è un tizio che pizzerò non hai capito palanki eh lo so però bene ragazzi direi che per stasera la fase muhammedosa può terminare qui ma è il momento di dare un grandissimo annuncio alla popolazione ossia far comparire per la prima volta mini loris sullo schermo signale ho avuto l'upgrade mini loris sullo schermo insieme a mini palanche sullo schermo che si si c'è un bambino d'oro ma sono kebab scusa un assalto mhm ah no questo è quello di stare vabbè pensa un po' lascia lì l'assalto oro uno uno dice perché usare le scale quando c'è da distruggere un muro che si anche direi che il momento direi che il momento direi che il momento oh forse dice prendere la mano ma non prendere la mano ma che momento palanche dillo è il tuo momento ciao spettatori perfetto sai quanti sono 0 quanti sono prova ad indovinare 2 no anita profumo ha scritto che si sente male loris corri aiutarla ci penso io le rispondo nei commenti si sente male? che senso? momswag è il migliore troppo d'italiano da ridere pensa gli ho risposto io ragazzi non c'è problema chiamati il 18 no la tesora tipo è anche ripata per pochissimo eh vabbè ok disdietta accipicchia porca punta attenzione spalla loris si ritrova in mezzo del fuoco loris possiamo vedere spalla come usano la sabbia per nostro loris ti spalla al culo 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 sopra da un po' di lati da ovunque loris oh che cazzo eccolo di prima che cazzo no già ho messo di merda eh vabbè dai l'uomo pollo l'uomo pollo era inevitabile era troppo bello ragazzi io se volete sono pronto a rompere cazza palanche eh oh se volete esco dal gruppo nel dubbio io vi lascio no capo è 76 vabbè dai ci vediamo se ci sei domani si si domani ci sono io potete mandare su mi fare un risultato di moltissimo a te grazie anche il tuo no ti manderò la schermata la connessione d'avversa la sedia è rotta ha voluto le manole va partita dai allora ci sentiamo raco ciao 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 mettiamo preparati allora no mettate che devo entrare che io sono qui parla che siamo educati si ti saluti ciao dai dai grazie questo da tenerne il best of perfetto palanche palanche saluta saluta palanche ciao spettatori sai quanti sono? 0 3 nooo cosa stai dicendo? 2 palanche 2 bravo i fedelissimi abbiamo 4 spettadores con un picco massimo di 5 qualche secondo fa eh già 13 riproduzioni non so di cosa stiamo parlando ragazzi l'avete spammata nelle storie? no è il momento di spammare le storie e ora faccio la la storia bravo bravo fai la storia bravo io mi sono unito al vostro gruppo Anita ce la fai a scrivere tutto in un messaggio si però la disattiva ragazzi non ce la farà mai ragazzi non ce la farà mai voi lo dicete e non ce la farà mai allora la disattiva quando no chiamate un po' luca a fare il moderatore della live poi il moderatore lo devi pagare come vi paga palanche ma che cazzo palanche lo paga palanche paga luca in natura non avete ancora capito ah esatto palanche cosa fai nella vita ma mi fanno ancora con la sabbia andrea ma non do 안seguo scuote la mia città i b tu sei io so mu ah me ci metto empp oh my god jusson d avevo un solo spettatore sono tanti in tutte quel deve essere lorismetti pranto ma non solo il suo arco dove il suo arco e non riuscire no ragazzi ho votato fuori dal gruppo rubo riuscito a connettersi per fortuna rispetto ad otto man fuori no no dentro pronuncio ben loris che fa un casino oh my god non ci soldi ci manca solo un mini molly e un mini carlo negli altri due angoli siamo a posto se vogliono avere i max felices loris ce l'ho fallimento pronto ma io sono già pronto sto cercando la partita no non sei pronto no sto cercando la partita no oh my god non c'ho i soldi quello la che porto con tre occhi non che non due altre occhi due mani nuove i palacchi ma che cazzo ma cazzo ma cazzo he tagliato i capelli no Siamo arrivati a casa Cos'hai fatto Molly? Hai bloccato i commenti ad Anita? No no io non ho fatto niente, ho fatto tutto Youtube Oh splendido, splendido gol, fantastico gol di Roberto Carlos E' rimasto veramente finale, pazze, immobile In questa missione mondiale Ma anche ci frega un cazzo di questo qui Oh my god, i soldi Secondo te poi anche guarda i gol di Roberto Carlos Vendo pappa nesco Dov' andiamo? Allora fai compini gratis eh Cosa? Allora vi direi che andiamo ragazzi a... Spriscila Andiamo qua Ma sei scemo? Sto leggendo come dirà la prima felicità Andiamo qua Dov'è l'Amadoro? Dov'è l'Amadoro? Eh, parla anche il giallo Ma che giallo Eh vabbè Ancora qua ma Unico Saluto al Brasile Amen Parla anche... Parla anche il viola Scopati la mogla di Brasile Vuole anche roba Oh my god, non c'è i soldi E' il birulò E' il sindicato Dicono che ci aveva provato anche un'altra persona Ehm Però non ci sia riuscita Località è carly Cosa? Ma porca trama poi ho anche genutato tutto il mutabile Benvenuto raga ma cos'è quel buco viola che c'era giudizio, sti fraccioni non avrete anche vogliazzerlo non avrete anche vogliazzerlo ma che merda sti forzieri vedrete anche vogliazzerlo c'era c'è un buco viola un buco viola? si sarà il concerto di Travis Scott non lo vedo più ma ha scomparso si probabilmente è sui bordi della 6 secondo me ero yacht e sopra yacht ma il concerto lo fanno in un spazio aperto max le sbatte duro ma cosa sbatte duro? è buono ah max tolte capelli ma li tolti se li buco tolti ma li tolti no loris ma fanculo no io veramente ma fammi prendere i colchini se non giro no tu sei fanger somu am già ah ah ho sbagliato scusate oh my god non ci soldi per comprare legume da mastica che cazzo ok poi arrivare anche il momento del flopo trone cosa può lancia mazzi lancia cazzi finalmente uno che lo so usare ragazzi mi date un'arma no modi e chieri una cepa di minta di mogli no grazie marco 2 mi dica cosa che ti posso dare va bene va bene lo apprezzo almeno tutti sei premurato di aiutare c'è metraglietta qua c'è una pistola blu se vuoi comune ma prendo anche qui ma anche non è che di rinutare tutto quello che vieni eh avete razzi raga no però ho visto che avevo due vampa a fucili presi poco fa me ne faccio un cazzo si ne ho quattro va un po' a fucili arrivo no cazzo mi sono fatto male to save fingers of muhammazzar fucile d'assalto bello mi piace I like it ma anche stai guardando una diretta non la nostra si bella esce le mine sono federico e sono un po' toccio ma che ti caga altre pistole faccio vedere il culo vogliamo un twerk porca madonna ma ecco bannato questa si faccia di pesanti ciao lola c'è un salto blu sei toscana ma rima maiala c'è un salto blu max uno di noi ma è figa se è qui o una branca no ma è con la bionda no è un'altra no che ci fai con 5 volte ma che non sei solo dimmi il nome del tuo pusher muhammed swag ovvio li migliori cibono oh fatte la camomilla stacca marzo malvati al cazzo moralista non sei manco nuda che cazzo molly si bozzette buona idea ma che cazzo sia fatta questa come non non c'è soldi perca porca puntata buona le ma quanto parlo ma cosa ridi ma ho una canna si ma non urlare per favore insieme a tutti i timpani diamo agenzia che parla anche di pia no andiamo a prenderlo culo la si con la ghiaia smetti di guardare gioca un po seriamente sempre giocato seriamente ma dove le tarla davvero c'è come c'è gente ragazzi c'è gente ragazzi ma sono qua che cazzo dico anche sembra l'indicatore di frenare ti la caldite in gran turismo che ti rompe il cazzo non serve niente ma chi non risi cano rosso oh my god non ci sono non perdono il mio sacco non prende un po' safo orcina puntata ero già sopra quando mi hai detto Anche puoi spegnere quella cazzo di line Ti sicuri che ci sia gente perché Sì, fidati di me che c'è gente Sono anche dei pauli malutati Mi sembra un po' babbi allora Tutto detto non c'è nessuno Oh my god, non c'ho i soldi Eccoli, sono qui Ma dove? Qui Qui, li sto guardando, sono travestito però Sono travestito Sono travestito, faccio finta di niente Ok palanche, va bene, non ti preoccupare Sono qua ragazzi Non l'ho ucciso Stanno andando sulle scale Oh ragazzi hanno ucciso Un tizio qui Palanche Oh non ci credo Ma ti, palanche qui Ma è qui palanche Ma uccidilo Ma è zona che ti gira e giro Ma verci un'arma Ma come? Porco diaz È qua È qua sopra Occhio che ci ha lanciato Ti bonzo Ti bonza sopra Ti zompa sopra Molli dietro, molli dietro Ma vai, ma non si appiscio un cazzo Rai Sta rianimando Nuova torretta Erfemi Ma anche ma perché non l'hai ucciso? Ma perché bolli Girova intorno Non lo vedevo Come facevano vederlo? Era sempre nascosto Non lo sono tornato in avanti L'assalto non è che potevo fare granché Occhio, ce l'ho aperto Vuoi vedere che arriva un secondo? Sono lontano, sono lontano Io ce l'ho lanciato azzeri di animal loris Sì Sinistra, Carlo Mi fa trovare arrivare dalla porta No, 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 no Merda, merda Mi son bloccato No, se mi pozzo Non sento Ok, ci sono Avete dei mattoni Sparca Ma qua c'è la scheda di palanche Sì Non l'avevo visto Bella Potrei la farla lì? Che cazzo succede? Ma l'acco Non capisco cosa sta Che dico Un po' la porta, molly Sì Ma daga, io li ho uccisi due Quanto c'era? Eh, ma sì, sono rianimati Ah, no, no, li ho proprio uccisi E allora forse ce n'erano ancora due Lui fa prendere la roba Non mi fa raccogliere di niente Beh, tra poco proviamo a uscire Senta che ci sono tantissima gente Anche io sento muoversi un botto di game Lasciamoci un po' qui Vediamo la foto Il po' di locali Ma no, non mi fa C'è un po' qui Oh, c'è un po' qui Con il treno Oh, c'è un po' qui Oh, c'è un po' qui Ah, c'è un po' qui il campo il momento con voi e sali 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 non ci spara con l'ancelati se qualcuno di non so cosa no niente non c'è un cazzo ho trovato la via di fuga venite c'è un forziere così parlando di roma infatti io si rifiuto per lo cazzo augurato come e sfonda tutto ora dovevo da scuola amato mai via 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 ora che ho sbagliato canne di conto nello sbagliato nostri sali nascosti non coperti dai sono da voi porca ricorda venite via e c'è un'oro c'è un giocatore c'è un gioco portata di una prima dove dove come 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 si arrivo se ne ho chiaro che il cazzo di partita se ne ha un po' in cazzo di brutto ehhh abbiamo non so che tu abbiamo tutti che c'è l'inato non c'è un'oro ok ragazzi io non scapiono eh c'è gente da te molli c'è gente di sopra eh li ho visti passo da sinistra io loris no c'è la sega non passo da sinistra ehm mi ha detto che per me no andiamo detti ogni o dritti o morto o dritti o morto o morto orco del po' dritto sopra 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 si si però dobbiamo girare per palanque ha fatto piru piru non è colpa mia ah si faitano qua davanti buona mela a mettere no minchia giochi ahhh 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 eliminato devi loot eh se ci riesco si con piacere c'è una sopratetta? ho preso qualcosa c'è un medic c'è un medic prendo il medic io lancio che la nata skiff avete dei razzi? eh boh ma raga si andiamo lì eh aspetta che cazzo sto facendo ma cosa sto facendo gente qua sotto porca puttana eh raga io sono bloccato qua sotto no non ne ho mi sparano merda mi sparano ehhh merda 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 ha eliminato uno perfetto ehhh lo eh lo bloccato da sempre raga devo curarmi quanti sono lo una sul tetto provo della casetta della casetta? l'agenzia si l'agenzia questa qua no non ne ho quanta cazzo di gente merda c'è gente qua da me sopra porca troia mi ha atterrato uno carlo fuori fuori carlo fuori carlo fuori a per la serra ma non è morto a 6 carlo toglie cure qua ti servono venditi tutto eeeh qua c'è pieno di cure ti brindono anche a lanciarazzi l'oro loris dove sei visto loris no ma io c'ho l'ottomigan ah ok e lomi dai... ce lo avete razzi? no io no ehm si ne ho tour raga la sua arriva... dalla sua arrivava gente c'è su uno oh ce l'hanno qua ce l'hanno qua ce l'hanno qua moda dietro la dietro c'è tanta generale con colpo da dire 70 ragazzi servono un mi serve razzi e il numero anno 2 ragazza azzardiamo l'edroco vicino ce ne sono due ma che ci sono due eredro io scudile non ho più oh vado molly dai lato vado molly 0,25 l'ho se i semi push ce n'era uno che mi ha cichinato che mi sta guardando molly eh l'ho visto l'ho banano molly non ho cura non ho visto l'ho 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 visto l' gente raggiù c'era tutte le quali grazie usciano sopra dentro non ho entrato un'altra gente sotto ho fatto eliminati dove molly? sono qua non c'ho vita e manco io c'è un altro medikit li bevete quello che c'ho delle bende ce ne sono tre medikit qua mamma mia cosa abbiamo fatto io ho aperto l'aerodrop volevo mettere la jump mi servono razzi ne avete? fate due poi c'è un altro mangio razzi si era mio ne avevo due ah ok io prendo questo volete una scambiola? no c'è un altro amico allora aspetta che devo mettere un attimo in oltre c'è un cittadino ho fatto no prendo il cecchino mi prendo l'arco ah come sono jump qua ok dobbiamo jumpiamo? si 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 dove 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 non ho visto qua da me qua da me venite qua da me vai qui c'è un fight rosso eh già ci vedono fisso vabbè andiamo nel fight dietro facciamo un partito andiamo nel fight pesante ragazzi ok uno l'ho fatto eh uno è sopra loris scende buono l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto no mi ha fatto da sopra molly ti vedo con un gruppo elettroni in mano c'è uno lì fuori non so che sia loris cazzo pato non vedo i nomi ho voluto alle volte boris di storia colmio forni da mi piace voglio animare carlo vantieri mare per favore male andati no perchè si sta porto l'istante all'istante per dire che la morte mette la moto no che cazzo ho fatto il salto io ho messo salva carlo salva carlo cazzo c'è dietro provato arriva distratto lo presegono per me sono vedo l'ho visto siamo dentro la natura dentro no c'è vista l'amore indietro aveva detto di insomma di conti insomma andate roma inattiva la città di giambi dietro di voi c'è davanti merda dietro da qua sotto no secondi mi piace gassetti rio 4 secondi è piaciuta raguardo carlo salta poche gira dormi ci facciamo un cocnau ignorante entrare ok allora che buonanotte no facciamo GTH a presto GTH a presto riparto da live la rinomino no no ma di nonno tanto cosa dobbiamo solo finire con la preparazione lì ma lì si la preparazione ancora poi se avete tempo e voglia possiamo anche farlo ma cosa dobbiamo fare ancora quella vabbè tutta acqua diciamo delle foglie no allora si facciamo aggressiva aggressiva molto pesante il quarto uomo non c'è? arriva dicevo che il quarto uomo arriva anche anche ah regà ok c'erano dei problemi devo rimettere l'auto perché mi è impazzita la cuffia eh eh risposto al quarto uomo mi ha detto ma 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 e stasera non c'è di nuovo no stasera c'è c'è arriva alla mezzanotte ah a deteriorare un po' particolari Tarzan ti sento lontanissimo non ho capito cosa hai detto Tarzan mi senti? Tarzan è vero? si ora si Tarzan tu sei fenghio su muhamezue direi che nel frattempo che ci connettiamo tutti i gta online mettiamo un po' un torniamo subito al frattempo Grazie a tutti. 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 Ok, sono dentro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. faici buono con la mia moglie a lavorare si ma schivali ma non sto prendendo niente perché col portafoglio in testa perché se no c'è l'elastico troppo mollo farci un nodo non è un elastico come dici tu è un elastico mollissimo è di quelli da cuffie non so se è presente come sono fatte le cuffie non mi stare manco al marciapiede sta macchina sarà meglio attivare la levitazione però mentalizza un agente corrotto ci penso io cazzo sei vestito l'uomo coppia valori per cui so Mi dà che sia da tutt'altra parte Ciao palanque È stato divertente giocare L'unico inconveniente Che la mia macchina vola via Addio Addio palanque addio Noi ti dobbiamo lasciare Ma ei, io dico che è ok Dentro al carcere ti verremo a trovare Ti verremo a trovare No, sti nus di merda Ah, forse riusciamo a fare la stent ragazzi Un po' palanque Basta che palanque stia là su cima A non farsi uccidere Dove dobbiamo andare ora? È lontano Ok Ok Loris, mettiamo il modulo di discesa rapida Ok 3, 2, 1 Discesa rapida Eminente Sembrava il human Eh, quasi sì No, aspettate, questi qua non sono le humane Sono quelli della news Chi c'era la tessera? Io Apri Ah, non, 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 non Non, non, non No, non, non hu No, aspetta Perché forse riusciamo anche senza uccidere nessuno comunque io prendo il pdv ah si no ti faccio sentire quello che sento io non so è inutile che non te l'ho già detto che sono degli affari è la quinta volta che te lo dì buona notte necessità di segnale, bene scendere aspetta aspetta è qua davanti eh ho trovatelo che culo la c'è qua davanti vediamocene qua, anche non entrare tanto poi quando usciamo c'è di nuovo la pull ma c'è una macchina volante penso che non cerchino me cercano tutti vabbè nascondi ci vanno anche vado per spostare ai giochi ciao belli non mi stanno cercando si comunque ci penso io a questi c'è parma pivalli c'è c'è insu c'è non c'è bisogno Loris no scherzavo strade? non abbiamo più bisogno di strade è più etico in galleria si tanto è fastidioso ma il senti questo onore? che rumore? oh cazzo che smu c'è? un treno della galleria siamo ah bene andiamo via levitazione magnetica on minchia sta a fare super il monte Cigliard va che è una meraviglia no perfetto cavolo è stata easy questo si di solito cioè perchè abbiamo la macchina volante sennò avete visto ho comprato un modellino del casino si non serve un cazzo non serve un fottino ah ok come questo ci serve dobbiamo farlo anche dove è la mia macchina? qui dietro no guarda che sballo l'ho ah che cazzo è? guarda 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 mi delight che figata la puoi fare anche te 체 ah diai hai sorguito che devo fare va quello di là quà? che cosa voglio fare ma aspetta qua? che cosa faccio? bravo ordre schifo mio camarcio non manco paghi cazzo me ne prego un costo a un cazzo 4.300 vabbè allora mi sa che in questa visione ti ubriacherai no prego scusa il telecoma linda come ce l'hai giuto qua no, ce l'hai anche tu nel monitorazione abbiamo porto il copo ma non ci serve il copo è diesel qua anche è il camace diesel boh, perché? guarda e comunque parla che non stava ciendo un cazzo Ma, eh, non mi portate con voi! Come faccio? È che mi ha messo a due posti. Sto giocando con Camarcio io. E tu lo dico, ti prendi i quindici, eh? Stranger Danger. Ah, vabbè, prenderlo qui, invece. Dopo una volta che c'è l'intera sarà il Giovan che fa il cazzo che vuoi. Vabbè, mi fumo una sigaret, tracca. Se no, Loris, viene a ballare. Vabbè, non posso fumo una sigaret. Devi anche ballare. Sì. Vabbè, ho blocco la Bia Peretta. E che posteggi mezzi? Scusa a favore. Ecco un'altra sigaretta. Eh allora, devo venire a ballare. Scusa? Perché devo venire a ballare? Perché così non devi fare un cazzo col tuo solo. Eh si fanno da avere un sigaretto. Ora bisogna trovare il tipo che ha detto Lester. Cosa? Bisogna cercare il tipo che ha detto Lester. Il trouppiere? Si. E' un nero. Nero pelato? Si. E' qua da me molli? Non ho mai steso per terra sicuramente. Eh qua l'altro nero pelato? L'ho steso per terra eh? Si. L'ho preso. Tanto non eri da steso. Ho trovato, non so. Ho trovato, non so. Ho trovato, ho trovato. Ok. Ciao, grazie per la testa. Ho trovato. Ho trovato via un progetto di un po' non mi gira più joystick ragazzi mi si era buggato tutto il joystick ok mi sembra quello senza un bel carcinetto eh ma quelle che mi ha fatto prima o meno eh per il tercino si potrebbe forse anche mettere ma è meglio la 150 però quante preparazioni hai? dipende quante ne vuoi fare però più ne fai più è semplice ma ne puoi montare si 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 un pavale imparami ahahahahah ho anche? dimmi ah ma siamo amici non ci possiamo fare il danno appunto ah si? no lascia stare il mio camarcio non si ribalta il camarcio nooo guarda fammi entrare vai aspetta devi mettere un po' di là ah no no ragazzi è la prima di male stavo qua dai palanche non mi ricomento arrivo lasciami il camarcio beh che cazzo sei qua io vado a quello a cui sto andando qui bastardo al più vicino eh certo c'è una macchina a volante eh beh è niente che c'è una macchina che c'è una macchina che c'è una macchina che c'è un po' di più ma basta ti fa il pesito cosa si fa? vai vicino fuori a destra dove dice il gioco cioè non è così difficile dovevo andare dove si fiamma il camarcio dove si fiamma il camarcio che è qua da me porco dio ah non l'ho visto dove si fiamma il camarcio non è successo è mai arrivata una macchina addosso ma anche in veloce per quanto è venuto con Angel per quanto è venuto con Angel il tuo camarcio? lo so buono che... va bene non va non sei ecco Come non vanno a sega? Spara un po', mi hai scusato il Camargo, non mi hai modificato quello problema. Tipo il motore all'1 senza turbo, trasmissione all'2 tipo... Non è che vado più forte. Cambia solo l'accelerazione. Vabbè, però... Che cazzo vuoi, puttana? Eh, si è glicciato. Vuoi fare così... Ok, ok, ok. Sto male di uccise quella puttana. Ok, ragazzi. L'ultima missione di preparazione, poi c'è il colpo. Resta. Porca dica la puttana. Resta di merda. Porco schifo, molly, l'unico palazzo che c'era. Stavo trattando la testa, che cazzo per... Vabbè, ho buttato più la stazione polizia davanti. Aspetta un po', ma sei con la marcio? Non me lo demolire. No, scusa, c'è un po' di danni. Potrei farlo stronzo e farti uscire adesso. Io te lo faccio spodere. Ma li paghi. Sto nemmeno per una ligera mano. Quattro stelle. Oh, no, Loris. Il palanque scende. Dove sei, Loris? Ah, certo. Fermati, Loris. Volevo che tu salissi, Loris. No, st. Io sono proprio la macchia. Thanks. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Loris. Excuse me. Come monta? Ehi. Da marcio. È un loris. Un attimo. C'è un ricottore di merda lì dietro. Ah. Un attimo. Lo sto parvenendo. C'è un ricottore. C'è un lago davanti. Lo vuoi seguire con me? no, voglio riportare il cavaccio a paraccio ok, non più rispendo, vediamo io ce l'ho ancora allora, riscossa merda mi sa che finisce in mano guarda che te l'ho un po' ammaccato io te lo riporto? si, si eh, ho perso il po' a parare di dietro è più tu, Ned, non ce l'ho proprio dietro dov'è? sto arrivando è proprio come l'ho rilasciato mi sa di cazzata ciao, palanche, sottile, ciao cazzata, sottile, sottile eccomi, palanche ti ho riportato camaccio è stato un bell'ottimo mazzicolo piaciuto, no? ah, sì, dai devo reggirarmi la macchina è un pezzo di merda, lo sai? lo sai? perché? c'erano i buccanti? sì io ti ho riportato camaccio nooo, il camaccio minchia, guarda che campanatura che c'ha davanti con le gomme bucate guardalo davanti, prego ecco, così me lo paghi anche ma giusti nooo, la mia macchina oh, dove hai mila? oh, c'è anche un mio amico in sessione non roba di coglioni con la mia che cazzo sta succedendo? quello con l'aereo è il mio amico quello con i piedi soldi su GTA è tipo da sopra ma che cazzo me ne prendo? salve non c'ho l'aereo, c'ho la Mk2 sì, vabbè nooo sono più forte quella non vito party? no perché no? mi appare il colpo siamo online mi è forte mi cazzo me ne prendo? ma li vedremo più soldi tu di voi soldi per la che? no ok, riesci pure dal party no, ma sto accorzando più si ha o meno soldi per via tranquilla avrai 300.000 eeeh ho alcun po' di scusa pa che sei in due hanno preso 35.000 ma no ma no 3 cioè era poco organizzato male su quante origna si spera che almeno fai ma non il milione ma non riesco a fare ecco va anche po' che vuol culo si ma le forze a me azzaro non pensi che non so va bene arrivo mi ho matto il make up 2 vabbè fai vg mi fa salire le siepi mi serviva qualche in questo io sono un attimo sul monster track del amico vabbè, sappiamo in che sessione entrare quando avrò finito il colpo un attimo di baltati eh ho messo il pallino, vediamo se arriva lì arriviamo in soccorso piena di camacho no, abbiamo provato a saltare il punto ma non ci abbiamo fatto io non d'altro Ok, va bene. eh sì bravo ma anche dovresti andartene sì stiamo andando via oeeh siamo pronti allora io vado a comprare giubbotti e snack eh anch'io dovrebbe essere c'era un money shop si si è qua vicino oh 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 ma anche tu sei pronto per il colpo? si hai giubbotti e snack? lo compro dopo ho il giubbotto dove c'è la scala? la mia perchè ballate? non si è blu o tre si si oh la mia skyline ma cos'è quella macchina di me? è la mia skyline si si ok dove sta? non ti posso fare del mare allora ti dici un po' che dopo sennò giochiamo insieme si si facciamo il colpo e poi veniamo che il resto in sessione da solo sennò oh la mia skyline ah giusto oh bella per entrare vi dico due cose generiche allora entreremo con una trimela apriremo la porta del cavo una volta aperta la porta del cavo ci saranno dei bancali con i sopradigli oh venite a vedere la livella di sta macchina vabbè a fa un cunfana che entra non prenderà il cazzo guardate sto spiegando il colpo vedi arrivo 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 vabbè quando ci sei dimmi che è così torpiva una volta so non 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 qui acqua di ok ma porca allora dicevo entriamo comprare la roba ascolta entriamo una volta aperto il cavo ci saranno 7 o 8 zone dove si può raccogliere loro per ora non sono tutti i nostri supporti bisogna aprire delle piccole zone con delle porte ognuno di noi avrà 2 cariche esplosive per far saltare le porte bisogna aprire le porte subito perchè non abbiamo tanto tempo abbiamo 2 minuti e mezzo aprire subito le porte e poi cominciare a prender loro una volta preso loro usciamo spariamo a merda poi dobbiamo prendere degli ascensori e delle scale e arrivare sul tetto una volta che siamo sul tetto ci paracadutiamo rubiamo una macchina in autostrada e fuggiamo via sembra facile o lo è? ma... cioè noi abbiamo queste due micro cariche e... ci sono queste due porte per uno? no può essere difficile sia di più o di meno però comunque c'è l'oro dietro o no? eh non sempre perchè magari delle camere sono vuote però te lo dice la mappa basta guardare la mappa ora si passa alla fase brutta no visto che sono una persona buona col mio 20% me ne sto oh no grazie al cazzo non hai fatto niente aspetta un attimo palanca quanti soldi hai? eh ma non lo vedo hai un milione e tre? si all you gotta do is hit that button you've done it before do it again solo perchè devi comprare la sala giochi mettete pronto ma non c'ho scritto quanto manghiamo eh dipende da quanto riusciamo a rubare ah ninja 2 milioni diviso 3 eh non è detto potrebbe essere di più o di meno ok parla anche il tuo talento da raffattore ci serve vabbè inutile che ve lo dica pochino morire e parla un po' più vicino perchè non sento niente al volume ma anche di raffattore più o di meno ma anche di raffattore più o di meno e non morire se e non morire se 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 non sbaglio abbiamo fucile a pompa abbiamo nostri armi no ah ve lo dico con loro saremo molto bene vedo io vedo io vedo io vedo io vedo io abbiamo degli ampi 5 e dei fucile a pompa si oh fede che cazzo andare oh fede oh fede dove perchè grida lui ok si 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 s si 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 Infatti, questa è aggressiva. Avremo un po' per tempo, eh. Sì, è arrivato anche senza salire. È arrivato qua, fidati che ti serve. Vabbè, facciamo il culo a sti pezzi di merda e prendiamoci loro. No, occhio che arrivano anche dietro. Allora, mi serve una persona perché i tastierini bisogna aprirli contemporaneamente. Eh, vai te, Loh, io il copro. No, palanche, vieni tu. Io ti lo fai io. Ma lo sono gappato io. Certo, due, devi fare X, non è che ci vuole tanto. Arrivo. Vai a sinistra. Vai vicino, fai il freccetto a destra. Vabbè, vabbè, vabbè. Pazzo. No, risvieni. Aiuto. Fai quadrato qua dentro, fai la scimmia, fai la lepre, fai la lepre. Fai il coglione. Devo mettermi già un altro giubotto poi. Anch'io. Ma come sempre, mi... Mettate che metto già un altro giubotto. Non puoi, ti bachi se dentro. Mi si fa un amico che poteva darci una mano per il colpo. No. Ci stavano sotto. Aspettatemi. Minchia, Lovis. Quanto dovremmo metterci, Molly? Eh? Quanto dovremmo metterci? No, abbiamo praticamente di lì. Ho chiesto. No, abbiamo praticamente di lì. Qualcuno che mette le cariche dall'altra parte? Grazie. Metto io. Palanche allontanati. Ok. No. 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 Comincia subito a prendere i soldi. Ehm... 2 quanta roba sto andando da h per aprirlo anche questo ecco che sull'acqua vicino il servo trattato anche il schiaccio di scambio ragazzi portico due tona sta fai vabbè io ho preso la mi serve che qualcuno venga, niente scherzavo, mi serve vabbè prendo C qualcuno va da E mi sa prendo C ho anche messo la carica H l'ho messa non so come spiegato che H fosse fuori sempre da tutto quello visibile E e F sono aperti ok stanno dai anzi quello da D che c'ho qua un minuto e venti no poi mi serve una tua carica mi sa che G è mi sa che G sia chiuso ok io ho preso tutto la nostra principale ok vai verso G o G? si dirà 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 come? io ho preso la rava volta un po' di più tutto storico anche prendi F e prendi F ok la piazzata professore? no ci metto un po' da privissima solo ok che ne vedo eh palanche io e te cominciamo ad uscire anzi finisco a spazzerisco ok son dentro arrafo no quando mancano eh quando vedi che la tua vita comincia a essere poca esci e non mi fa arrafare non mi fa arrafare non lo facceva prendere meglio non lo fa prendere neanche a me ma tanto non c'è tempo avessimo avuto la vita a Expo quanto mancava uno solo no 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 beh abbiamo preso 3 milioni due milioni e mezzo beh si non cambiavo questo ora al piano di sopra c'è un'altra mini cassaforte ok no no ma non ci sei? che? 3 2 1 raga gas muovetevi no ma il gas rimane lì adesso seguitemi bisogna andare dritti salire le scale e poi vi faccio vedere dove la minima mi fa saltare eh allora poi ci fa saltare ah perchè è un oro ah è vero vabbè non c'è più milioni e mezzo per ora tutto bene però tutto bene ok ma chi è che è morto che non l'abbiamo più vita eh? non ce ne avevamo a prescindere ah perchè ho fatto oh non danno il giallo sul bortone ho fatto talmente tanti porti che ce lo posso fare su mille sicili non possiamo riparare che basta se si è identificato entrato ok 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 e di no se avessimo lasciato i tizi quelli di aereo diciamo quello che ha fatto esplodere sti qua farbbero i giubbottenti proiettili della madonna entrate tutti nel ascensore il paracodoro ci puoi? no no c'è tempo c'è tempo allora ragazzi ti spiego qua dentro questa stanza con i vetri c'è un pulsante raga dove siete? raga dove siete? sei di sotto? prendi l'ascensore loris si prendi l'ascensore perchè? eh si è pagato vai qua prendi l'ascensore vedi quella porta la si io apro e tu ci devi entrare sono al giro molly sono al giro sei al nostro stesso piano eh? sei al nostro stesso piano ma dove sto a uscire? ah ok palanche vai verso quella porta preparati ad entrare apela apela vai palanche vai palanche loris stai fuori mi servi fuori sto fuori? palanche arraffa si stai fuori palanche si arraffa arraffa arraffo lo arraffa palanche io ti parlo tu devo curarmi un attimo sono bravo ad arraffare raffa 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 sono rikiii rikki via la maggior parte la prende tutta molly ma vado a prendo un milione vuoi 500 mila in teoria ah ci sta allora adesso praticamente usciamo tipo subito giriamo a sinistra e poi c'è un ascensore ok? guarda che seguo non vado credo ok come si esce? c'è un tasto sulla destra della porta ok ho visto no fai strada palanche che si perderà sicuramente palanche si non mi si apre bene qua 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 palanche venite 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 copritemi copriamo 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 palanche tu guardami dietro e guarda davanti entrate nell'ascensore entrate nell'ascensore andiamo 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 vai 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 tra poco bisogna paracadutarsi state attenti non incastarvi su una parte poi c'è piede vigile pompa 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 così c'è troppa gente no no venite di qua venite di qua ora ragazzi io mi paro caduto prendo una macchina e poi voi venite giù dopo mi sono grazie aspettate si si scusa scusa perchè non c'è il porto di perché siamo se volete il gioco il il gi a e che 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 vittimini l'uomo indietro dietro ma io non puoi prendere la macchina volante eh si la chiamiamo qui devo andare laggiù anche noi quindi eh si a meno che non ci siano delle macchine qui sotto nel parcheggio bene perchè c'è una macchina macchina 4 c'ho cazzo c'è una mi sono buttato senza volere ragazzi fatto una puttana muoio forse no mo forse no proteggendo dall'altra banda spara con un passato minchia vado bene che ci ho giocati vado bene vai vai vado bene che ci ho giocati manchi adesso è beccato qua raga dovete paracarutarvi per forza ora? si dovete venire questa macchina la sto prendendo manchi vado qua vado qua più verso qua stai fermo il bongue eh ormai mi sto fiondando merda palanche c'è piantato dai dai palanche lagga non entra no palanche stai laggando non entra vai 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 palanche abbiamo forza 200.000 gold palanche se l'aggia adesso ci fallisce il colpo palanche 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 dimmi ok non disconneterti abbiamo perso troppi soldi proprio qua tu cosa ne preoccupami cosa ho fatto ah e rifarmi un pin fuori eh ah mi sono dimenticato di dirvi che a voi da più soldi l'esterno perchè ma scusa mica due miliometri centomila guarda che prendiamo quasi un milione a testa eh no devi togliere i 700.000 di lester e chiudi tutti qua con i pacchi di me mano lester cioè che non sono solo di lester sono di quelli che fanno la preparazione eh ma io sarei fermo qua no andiamo avanti perchè dalla mappa in linea d'aria siamo troppo vicini a casino ma Certo che se la polizia se ne andasse La polizia? Cosa vuol fare? Sei un po' fermo Perché? No A me continuo a cercarmi Anche a me mi sembra impossibile Ora consegna il bottino all'acquirente Grazie Ragazzi che cazzo è Young Ancestor C'è uno dei contatti che si chiama Young Ancestor Oh ok c'è un po' di risa Parla anche io farei una cosa però Cosa? Sai cosa devi fare Ciao spettatori Ciao spettatori Che nessuno faccia rumore Ciao spettatori Ancestor Ancestor Non lo so Ancestor Non Non lo so Quanta gente c'è qua sopra! Ho portato ad un altro gioco alla testa Mi chiuso un po' di Marten? Eh, vai avanti di qua Resta Anche se il palanque non l'avessero giorato Vai di là, vai di là, perché se non farsi vicino casino è tipo per la polizia Possiamo cambiare macchina Un'assulta, prendi un'assulta, Loris Dove? Perena, dietro il furgone di Tacos No, no, che poi ci smetto una stellina Andiamo con questo bel mezzo È V6? 220 cavallo Senza una gomma Un'assulta Un att Shark Un attento Un attento Tampere 8 km? lì sì fino a pareto con una gomma bucata una macchina che non va avanti siamo più salti per loro poi anche più di spiacere ma quello no per forza l'altra volta siamo andati via moto in due sulla stessa con loro la riga andò a luci e lo scolto minchia oggi chi sono arrivato dietro gli ha suonato le trompe che è accanto addosso la valata e ci saluta non lo sapevo che ho montato le trompe sulla 600 si che lo so me l'hai detto cosa? ho montato le trompe sulla 600 ma non lo sapevo non lo sapeva te dillo ai nostri seguaci parami seguaci ho montato le trompe sulla 100 ora lo sa quanti sono? 5 ok a quanti ok a quanti loris quella mi parla anche vai con loris vai con loris vai con loris scusa perchè ho fatto la macchina della furgona la bionicetta perchè fa schifo il cazzo quelle macchine ah sono quelle di palanche che abbiamo rubato? ehm si è schifo oh questo è qualche da 7000 si lo so lo so e io furgone di un cazzo di giardiniere con vuoi salire? no io faccio il giardiniere ok ma si abbomba te si mi chiamo abbomba non va tanto pigirsi ho scherzato ciao palanca bene fatto lo schifo ciao palanca arrivo come furgone da giardiniere? aspettatemi aspettatemi oh per modi no lodi dai facciamvelo oggi che troppo credo che dovremmo andare a mettere a posto un giardino a san bernardo no dai che c'è un po' di salita non va più semina la polizia come semina la polizia? ti chiamiamo una stellina perchè io non ne ho per fortuna no loris fermati io non ho la stellina fermati 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 devi fermarti lo stesso ce l'ho io perchè c'è una stellina raga? io non ce l'ho la raga eh si però devi fermarti perchè se arrivi dai forse perchè sei un po' più visibile vestito così su una moto andate si noto palanca ha ragione orco schifo c'è qua la polizia eh lo so ce l'ho dietro io mi sta seguendo speriamo non veda la carriola caricata male se no mi fa la molto eh 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 guarda che cazzo è messa guarda che disco cazzo di molle eh vabbè loris vai eh torna indietro torna indietro ma perchè torna indietro? perchè ci sono due macchine della polizia nooo stessa una polizia c'è ancora una palanca hai capito che devi fermare? perchè? perchè se no ci beccano ma io non ce l'ho non dico non andando al comprattore ok so qua fermo no vai a sinistra 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 no stai in macchina maldi no no palanchio cavallaro ha detto che ha scoperto oggi in modo spiacevole che hai le trombe ma basta ci abbiamo fatto eh? cavallaro ha detto che ha scoperto oggi in modo spiacevole che hai le trombe si sei cagato addosso ce l'avete fatta? ehm merda fanculo aspetta ci devi bastardo e tanto che velocità vuoi che faccio con sto fare qua? guardo la carriola nei buchi ancora qua appunto tu vuoi forte io ovunque i migliori ecco zio ragazzi benvenuti nella riccanza dai vediamoci un po' che vanno a metà posto al cardina questi sono dei messi compratori si si pagano le tasse e anche quanti soldi hai? buono bene quant'avete fatto? 437.180 vabbè io ho 800 poteva andare meglio impara anche se è bugato è benissimo come mai? in quel preciso istante doveva bugarsi sto un disco è perso un po' d'oro il castiglio per i tuoi bolli in questi giorni eh? quante volte avete rubato questo paolo apposto? ma una ventina c'è uno schema completamente bianco si, vediamo su e a fondo dei gelati si festeggia e beh beh ci offri da vedere immagino ragazzi dovete mettervi subito i soldi nella banca cosa? avete i soldi in contanti ah carino pensa un po' anche se non ti uccide te li frega io infatti non esco da qua per ora deposita ma anche quanti soldi hai hai detto? aspetta allora deposito te lo dico oh io c'ho un milione minchia quanti? ho esattamente 2 milioni 17 mila 922 non partita sarà giochi allora ascoltami come si compra? vai su internet ahah devi comprare quello che ti dico io però poi vai su foreclosure ti mando la foto di quella che devi comprare devi comprare questa qua ma quella che ti mando? si però ti mando la foto lo stesso la paraccia è per capitale siamo ora quella che si chiama video geodon video geodon da 1.800 la mesa da 1.800.85 bravo bravo comprano per ora base senza niente tanto poi non ci serve quanto costa la garage? 200 non ce la faccio con poi la garage no ma non prenderlo quello prenderlo dove acquisto ok adesso togliamo il ceo e te lo metto a te cioè fai tu il ceo così allestiamo la tua sala giochi invito al mio amico si quanti siamo siamo noi 3 invito ma ci sono poi ci sono i 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 non neanche lo facciamo il CEO l'ha fatto non mi ha invitato bello il tuo organizzazione non neanche mi inviti non mi ha invitato non mi ha invitato ma perché hai fatto vicini vicini e poi amici eh rinvita ok come si diceva su sto buco di culo qua la pang sit tipo exit la fine di quella canzone è quella di Jojo Jojo il tuo B contigo bene allestiamolo qua anche come si fa? entra dentro allestisce entra la tua entra con amici e compagni no 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 non ci fare entrare perché no non voglio entrare nooo ci fa vedere la cutscene ma qualca di quella puttana carina sono giocati da 2 milioni dai dai ah volendo arriva anche Tarzan è vero no di lì che non la vogliamo ma vaffanculo poi mi rompe il cazzo se arriva Tarzan facciamo il mio colpo serio sì ma possiamo chiamare Tarzan ooo sì sì in teoria sì in teoria ma vediamo con che profilo gioca se gioca con Marta Iai che male come lo chiamiamo? come lo chiamiamo? lo chiamiamolo Tarzan no Tarzan qua è Tana ma non è più Tana non ci gioca più con quel profilo ah vabbè allora è Tarzan lo stesso no Marta Iai dai Marta Iai che male è che no aia ma la merda fa 2 milioni ok è il più comodo però è il più comodo però avete fatto partire sto vestimento eh c'è la cazzina un ordine cazzina ma anche quanto plus hai? come quanto plus hai? per quanto plus per quanto tempo hai ancora plus? non lo so perchè? perchè se ti scade io non te lo rifaccio nooo a me scade l'8 maggio a me scade l'8 maggio a me scade l'8 maggio e la palanche scade anche la palanche scade l'8 allora o il 9 o l'8 e la palanche scade l'8 forse palanche mi regalasse a dire se la 600 attenzione 50 pass 5 ancora qua ancora qua dai palanche alessi ci sta merito perchè dobbiamo andare a prendere un suolabuso nella campagna come uno suolabuso nella campagna? ah si dobbiamo andare nel deserto a prendere uno suolabuso ma che cazzo dici ropa? lui è night ah e viene recupera l'attrezzatura eh sto qua è un po' brutto bisogna andare la ah bisogna fare missioni ora certo come uno di stealer la vuoi lasciare così questa catapicchia di merda devi cercare il camion che non c'è e poi ritornare a portare in giro ma eh scusate ciao vabbè ho fatto qua cosa devo fare difidati aspettaci qua sul serio mi aspettavo però stai in macchina come in macchina stai in macchina ma si che ce l'ho io ma si che ce l'ho io ma si ce l'ho io ma si ce l'ho io e che poi sto qui nel chagano in giro e rimarrà il posto non avvicinante no è un po' sensibile un po' tanto sensibile ma vaffanculo che questa non è la prima dell'ordine ci ne ha un'altra che inizia si giuro che quella lì piuttava il pass questo l'hanno appacciata andrò fortissimo non potevo usare la premessa ma neanche questa in teoria però poi se la chiami ti arriva ma neanche questa in teoria però poi se la chiami ti arriva no no ti riprendono anche te la saranno gli occhi eh ciao raga ciao no mi senti? perchè? si si se no mi sente ti sento ti sento io non lo sento aspetta esco e rientro ho detto che esco e rientro manca prima e non lo sentivo non vuoi mai io l'ho mutato non lo voglio sentire ho un casino dietro un microfono è un casino ah oh wow non c'è uuuh ah o quanto il ciò guarda che cosa? dove è il traccio? oh non mi mi ha stato mi senti? si, io ti sento guarda anche, visto che c'è... ha comparso... vi sento, eh? eh no, forse ci arriviamo più con la macchina qua si, ci è arrivato l'uno da voi molly, te lo senti? lo senti? chiedetegli se mi ha mutato si, guarda che ti sento... lo sento, lo sento no, lo sento chiedetegli se mi ha mutato magari ti hanno... l'hai mutato anche? no, no, l'ho mutato faccio vedere vediamo come si fa fermo appunto proprio perchè non sai come si fa no no, non l'ho mutato, provoce io hai riuscito a riuscire metri che abbia fatto non ti preoccupare, loris? ah si, lo rubo, lo rubo raga, io sto 10 minuti e poi vado ok bene, se volete un po' cazzeggiare o cose così che io c'ho quanto... li parano li dopo un ultimo salto finiti ah li hanno fatto parare un'altra sala di gioco ora forse sento ora fredda ok, li sento finalmente no, puoi sentirti no, puoi sentirti ma anche si spara credo il tuo allestimento di merda per la tua sala di gioco vabbè, senti io so sono un capo della sala di gioco quindi bene se pensi solo che hai preso la messa fatta nel colpo mi devi impazzare stai entrando nella nostra sessione? si fede vale sempre l'offerta per il miglione capito? quella di quel colpo... quel colpo... non quel colpo quella... si, caso Bogdan bago o Bogdan? spiegalo un po' perchè qua c'è Molly che... allora ti spiego molto brevemente allora la maggior parte della cosa la faccio io ovvero che entro nel sottomarino ammazzo tutti recupero il tipo mi dice dove... che cosa devo fare tu intanto ti metti lontano sopra di me con un sea shark che sarebbe la moto d'acqua mi aspetti quindi devi evitare di avvicinarti agli elicotteri perchè sennò ti attaccano poi quando esco mi prendi con la moto d'acqua e... andiamo insieme con la veger all'aeroporto dopodichè quando siamo arrivati all'aeroporto io scendo guidi tu entri dentro l'hangar e appena vedo che c'è il flash io chiudo l'applicazione così tu ti prendi il milione io non prendo un cazzo si è vero per la cosa di di Bogdan è vero quindi caso Bogdan non so anche io che ha buggato però... il problema che sia io mi sembra cosa sia caso Bogdan infatti c'è cosa... diciamo c'è già solo la cosa che tu non ti devi far rivedere degli incontri è impossibile ahahah vero ma anche tu questa skyline si lasciala stare dai orco zio ma ti piace così tanto quella pistola hai detto la odio quella pistola di merda dai dai mi stai detonando la macchina porco intera aspettalo ti prego sparami no fedeleggi l'universo si ok ho letto ci ascolti si si porco zio sono morto anch'io ti suicida ah non ti ho fatto danno è vero ma mi parla anche cosa vuoi pensi di fare? niente allora si cicla merda ti ricordo il mio motorcycle che vuole allestire tutto il mondo sappi che i prossimi colpi tu ti prendi anche se il proprietario è il 20% eh si ora stiamo allestendo sta merda di sala ne ho saluto un'altra aspetta che la prendo per si sta tornando la macchina mica aspetta aspetta no 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 basta colpi 1 no 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 apagato no forse non esclodere si No, forse no. Norris, io ve ne andrei? Non so parlare a sto qua, addio. C'è anche il cinese di Mer qua. C'è Fang. Fang. Ma c'è nessuno di prendere il fuoco? Eh, però mi dà che l'ho distrutta. Me l'ha pagato il cuore. Eh, no. Ti l'abbiamo rotta, però non sei distrutta. Eh, no. Caglio. Ok. Sei distrutta. No, Loris. Mi roncastato, Loris. Sali, sali. Non so, non so. Non so... Mica! Quanto parla sto fatto? ... Cang? ... No, come si chiama sto qua, come un bastone, gli occhiali, ah l'estero. Come un bastone? Sto idiota, sto ricoglionando. Parla con la cinese. Perché vuoi baggiare con la peggio? Per finito. Vada, mi suicido. No. Mi suicido anch'io. Ho sbagliato a suicidermi. Io non ho di paracadute. Non ho di paracadute. Mi uccido. No, la mia macchina è rimasta lassù, che cazzo. Devi fare sopralluogo? C'è di sì, c'è anche sopralluogo, mi so. Aspetta che richiamo la macchina volante che ci serve. Ma che cazzo mi è finito? Ma porca puttana, vai su che levita. Facciamo sopralluogo? Eh, fai sopralluogo, sì. Ora cerchiamo di farlo bene, ti dico due cose. Non è solo il mio piano. Ok, so, hai ragione. Tornata al cuore. E' che cazzo, mi piaceva, che si vuoi. C'è? È un po' di paracadute. Io lo faccio, ho lato. Ma ho ieri, mi abbastanza da! il palanque ti farà fotografare la roba che palle eh lo so, se lo facciamo bene lo fai una volta solo e una foto alla porta col telefono? si si ma nel gioco eh che si se in la 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 non si e 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